Il porto al centro del dibattito politico nel capoluogo. Ogni scelta in quest'area di Ancona si ripercuote inevitabilmente su tutta la regione, essendo l'economia del mare una delle principali di tutto il centro Italia. In particolare negli ultimi giorni è tornato alla ribalta il tema che riguarda il progetto di banchinamento del porto antico per accogliere grandi navi a crociera, ma anche quello dei tempi lunghi della penisola e poi il tema dell'inquinamento ambientale. Presso la sala consigliare si è tenuta nei giorni scorsi un'assemblea dove hanno partecipato il comitato porto città, ribadendo la secca contrarietà all'arrivo di grandi navi al molo clementino, concetto già ampiamente manifestato anche davanti al comune nei giorni scorsi con un sit-in di protesta. Questo è un tema che sta a cuore alla cittadinanza, il tema della salute pubblica e della difesa del porto antico sia un tema decisivo. Cos'è emerso? È emerso che il sindaco ha confermato la sua contrarietà, ma è anche emerso che il sindaco sostanzialmente ha detto che qualora le prescrizioni che provengono dal Ministero in fase di via e di vas dovessero essere superate, lui oggettivamente darà parere favorevole. Quindi c'è una contrarietà momentanea, ma è disponibile eventualmente a cambiare questo suo punto di vista. Per quanto invece riguarda noi e in generale il comitato, noi continuiamo a ritenere che esiste uno strumento per bloccare davvero e definitivamente questo progetto e cioè revocare la delibera con cui l'amministrazione Mancinelli diede la possibilità al porto di fare una variante in quell'area. Perché diciamo questo? Perché sicuramente esiste il tema ambientale, il tema della salute pubblica, il piano di inquinamento atmosferico ce l'ha dimostrato, ma è altrettanto vero che bisogna difendere quel luogo per la sua storia, la sua identità e soprattutto perché fare lì il molo per le grandi navi da crociera significherebbe intercludere l'area, impedire qualsiasi altro sviluppo sociale aggregativo. Contrariamente ad alcuni esponenti di peso del panorama politico, in primis Carlo Ciccioli, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che invece preme l'acceleratore sul progetto, il sindaco della Dorica, Daniele Silvetti e Floriano Bonifazzi, coordinatore del PIA, hanno messo in luce i rischi legati alla qualità della vita e alla tutela ambientale. E intanto l'obiettivo zero emissioni non si raggiunge solo con l'elettrificazione delle banchine. Chi può dirsi contrario? La verità però è che intanto ciò che ad oggi è finanziato è una piccola parte. La capacità in termini di megawatt è ridotta perché oggi l'Enel può offrire un tot al porto di Ancona e comunque tutto questo ad oggi, se non nelle ipotesi, non riguarderebbe il molo Clementino. Quindi chi oggi dice facciamo il molo Clementino perché poi forse non si sa quando lo renderemo elettrificato, fa una promessa non fondata. Ancor peggio e chi dice sì ma nel 2050-60 arriveranno le navi ad idrogeno, lì siamo davvero alla fanta politica.